Chiedo a Maurizio intanto di raggiungerci e subito dopo se c'è collegata Paola Nunez che abbiamo in collegamento con noi, una senatrice, da poco abbiamo anche una presentanza istituzionale nel Parlamento e nel Senato e subito dopo vi darò la parola. Ok Maurizio, scusatemi, Maurizio Cerbo, segretario della Rifondazione Comunica. Innanzitutto io voglio ringraziare Roberto Morea, Roberto Musacchio e tutta Transform per il lavoro che viene sviluppato con una passione militante che è una risorsa rara e preziosissima in questo momento, soprattutto per un motivo. perché la principale catastrofe della nostra epoca è che le persone sono sempre più ridotte a ragionare da sola in casa, davanti a un computer. e io credo anche nell'imbarbarimento di posizioni a cui assistiamo a toniti di compagni con una storia, cultura, itinerari, anche molto radicali di pensiero che di fronte alla guerra e vengono fuori con opinioni che ci lasciano inorriditi sia prodotto di questo isolamento, un po' come lo sia stato anche il fatto che a fronte della pandemia il principale movimento di opposizione di massa non sia stato quello nostro contro il monopolio delle multinazionali e l'apartheid vaccinale che ha penalizzato il sud del mondo ma è stato quello per negare i vaccini e la loro utilità. e organizzare le occasioni di pensare e ragionare collettivamente io credo come fa Transform sia una cosa che ha un valore politico fondamentale in questa fase e che va che svolge la funzione intellettuale collettiva che Gramsci assegnava al partito dato che di partiti ne abbiamo insomma una miriade in una maniera che consente appunto di di travaricare anche i limiti delle organizzazioni. Io credo che sia davvero un lavoro prezioso e forse per questo la giornata per riunirci è stata scelta non so se apposta però nel nel giorno in cui oggi è il compleanno sia insomma di due grandi luministi, due grandi rivoluzionari e due grandi sostenitori della pace cioè Immanuel Kant e Vladimir Liciulianov, detto Lenin, ambedue, l'ho scoperto oggi, non lo sapevo, anche questo si scopre grazie ai social, a Twitter, ambedue nati il 22 marzo c'è qualcosa che unisce le due cose e cioè il fatto che noi in questo momento storico credo abbiamo bisogno di ragionare con uno sguardo come quello degli ultimi due interventi che ho ascoltato perché anche a sinistra tendiamo troppo a essere appiattiti sulla contingenza e sulla cronaca a fare i politicanti senza neanche avere gli strumenti per fare la politica politicante quindi diventando anche particolarmente caricaturali invece abbiamo bisogno di di ragionare collettivamente andando in profondità rispetto alle cose perché quando non lo si fa alla fine l'esito è la subalternità citando Montalban da quando è scoppiata la guerra io mi sono inventato una frase Montalban nell'89 scrisse che si abbandona Marx e si finisce a credere negli oroscopi aggiornato ad oggi si abbandona Marx e si finisce per tifare per Putin o per la Nato questo è un problema poi magari ne parleremo nella seconda fase della discussione con i compagni con gli aderenti individuali della sinistra europea che attraversa persino la sinistra radicale europea neanche solo un conflitto tra noi e il partito socialista europeo o come ironizzava Filippo Miraglia gli ex di lotta continua mi pare che anche gli ex del piccino stiano brillando in questa fase regge un po' meglio la chiesa cattolica e anche questo da un lato ci conforta ma dall'altro ci dovrebbe anche preoccupare quindi il lavoro che sta facendo Transform a mio parere è utilissimo e non lo dico per piageria e per l'amicizia che si lega e la collaborazione quotidiana ma perché penso che interviene rispetto al principale limite che noi abbiamo e cioè il fatto di rompere un quadro di egemonia dell'avversario ma anche di disgregazione delle forze intellettuali e militanti della nostra area e diceva Gramsci che le classi subalterne hanno un problema dentro il capitalismo con le continue trasformazioni ad avere a organizzare le traste dei cervelli come fanno le classi dominanti e quindi dentro le trasformazioni a un certo punto mancano di una mappatura della realtà e quindi non riescono a orientarsi questo noi oggi lo vediamo in maniera drammatica e lo abbiamo visto anche nelle elezioni francesi dove il dato sul voto popolare operaio alla Le Pen a mio parere è assolutamente giustificato considerato insomma qual è il profilo di Macron il presidente dei ricchi e la repressione che c'è stata in Francia che ne sono occasione del movimento dei gilet gialli con undici morti sulle strade delle città francesi che quegli undici morti ovviamente non sono mai esistiti nell'informazione italiana ma probabilmente sono rimasti nella consapevolezza di settori del popolo francese se buona parte degli elettori di Mélenchon non hanno intenzione di votare per Macron al secondo turno ora quindi il lavoro che fa trasform di organizzazione di un traste cervelli penso che sia fondamentale e penso che ci dovremmo porre un tema almeno qui in Italia per quello che ci compete anche su scala europea in Italia insomma ne abbiamo ancora più bisogno perché viviamo da anni una situazione da Europa dell'Est per debolezza della sinistra radicale nel 93 quando uscì dal PDS Pietro Ingrao disse una cosa che secondo me rimane attualissima allora c'era rifondazione stava andando anche molto alla grande però disse una cosa che mentre lavoriamo a costruire una coalizione sociale e politica vediamo insomma che riusciamo a mettere insieme in questi mesi di positivo io sono da questo punto di vista moderatamente ottimista io credo che rimanga l'esigenza che pose in grado nel 93 cioè quella di costruire un polo formativo e informativo nel nostro paese all'altezza della situazione non è possibile cioè noi dobbiamo dotarci degli strumenti mettendo in rete le energie che ci sono di in qualche maniera contendere nel dibattito e nella formazione dell'opinione pubblica almeno delle aree della sinistra l'egemonia degli altri perché in quello che sta accadendo la cosa più terribile io credo che nel paese c'è un pacifismo popolare molto anche fatto di ragionamenti molto semplici ma che stanno a fare gli americani alla NATO al confine della Russia perché io devo pagare le cose ma non devo arrivare alla fine del mese perché quelli vogliono fare la guerra con Putin cose molto elementari e poi una contrarietà di fondo alla guerra che diciamo è depositata nella nostra storia nelle culture di massa del nostro paese mentre quello a cui stiamo assistendo è che proprio nella sinistra lo dico anche nella sinistra radicale e nei nuovi movimenti io trovo attivisti dei movimenti LGBTQI o femministi o della sinistra radicale in generale che parlano che scrivono post come rampini e su questo non c'è l'anatema da fare c'è da ragionare su come noi riusciamo a creare un circuito di riflessione collettiva e di socializzazione di pensiero critico che non lasci aree di movimento e di opinione critica alla egemonia del neoliberismo che oggi è diventato un neoliberismo di guerra io sono molto convinto delle cose che diceva il compagno che raccontava nell'ultimo intervento ho la sensazione che la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta e anche le tesi del mio amico Doni Negri rispetto al fatto che essendo così interconnessi l'imperialismo non interveniva più tanto come è già accaduto in altri passaggi della storia alla fine il potere politico conta l'aspetto della violenza nella storia conta d'altronde i mercati furono aperti il mercato globale fu creato a forza di cannonate e quindi anche una riorganizzazione del mercato globale in piattaforme continentali o comunque di blocchi io credo che sia possibile che la guerra serva a questo e dentro questo io credo che la crisi della democrazia e l'imbarbarimento il ritorno dei nazionalismi e dei fascismi siano non patologie del passato ma prodotti della ipermodernità in cui viviamo e quindi insomma ritornare a Kant e Lenin è sempre utile e tutti e due insomma ci indicavano la via dello studio e del ragionamento collettivo grazie grazie Morizio mi piace questo richiamo all'idea di intellettuale collettivo che proviamo diciamo a esercitare nel nostro piccolo e che sicuramente è una cosa che manca grazie a tutti